Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nuovamente qui signori in un nuovissimo video Oggi credo che lo farò, lo farò perché mi è arrivata questa lettera da parte di un ragazzo che mi seguo da parte di Walter Walter, Walter, come si pronuncia? Walter, comunque grazie di cuore, Walter Perché mi ha fatto vedere, amore, che c'è in tanti di voi, ok? E questa cosa mi ha molto colpito, quindi oggi siccome, come sempre, il tempo oggi non è un tempo dei migliori Non c'è tempo sistema della telecamera, anche oggi vi delizierò di un video uncut che spero apprezziate E soprattutto volevo farvi notare, più che altro per quelli che hanno guardato i video dei Gratti e Vinci Guardate cosa ha fatto Walter Io spero che possiate leggere, al massimo mettete in pausa il video, ok? Cioè, è andato a scrivere tutti i numeri che io andavo citando nella serie, durante tutta la serie dei Gratti e Vinci Cioè, qui abbiamo la smorfia di Pepo, tipo 48, Il morto che canta, oppure 48, Carmelo col cagotto 43, Viva l'asino che si fa il bidet 44, Gli anni di nessuno E mi ha scritto una lettera bellissima, aggiungerei, cioè, questa qua è la lettera che mi ha scritto Cioè, questa qua è tutta la lettera, amato mi, grazie di cuore Aspetta, fatemi vedere se c'è il numero di telefono Perché se no, devo cancellare di fare il video Ok, no, 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 non c'è nel numero di telefono, né nulla E sappi Walter che se guardare questo video, questa lettera l'ho apprezzata da morire E oggi andrò a fare qualcosa di incredibile Ovvero, mi era passata la voglia dei Gratti e Vinci Oddio, mi è passata la voglia dei Gratti e Vinci Però, voglio confessarvi una cosa Io ho questo Gratti e Vinci, ok? Potete vedere che è tutto piegato, è tutto Madonna, c'è, tutto è impolverato Perché è messo sulla scrivania Da circa due mesi E come vedete è un Gratti e Vinci da 20 euro Forse dov'è? Sì, da 20 euro qua Che non ho mai grattato Non l'ho mai grattato perché Come vi dicevo, appunto, me lo ha comprato mio padre L'ho acquistato perché Appunto, credo, o sia uscito da poco Non mi ricordo Comunque, l'aveva visto il mio padre al tabacchino E ha detto, ma sì, te lo prendo Siccome non l'hai mai fatto Questo qua sembra carico, sembra figo Facci un video Io non avevo voglia E signori, io ho questo Gratti e Vinci Da 20 euro Da ben due mesi Anche più di due mesi No, credo che mio padre Sì, credo che me lo abbia acquistato a settembre Ragazzi Verso i primi di settembre E oggi 5 dicembre Lo andremo a grattare Adesso vedrò come piazzare la telecamera Facendovi vedere il tutto Con questo video voglio Voglio vedere una cosa Perché Comunque vi voglio Voglio comunque Per tutto piacere Quindi Ci accediamo E bla 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 Allora Vediamo se riesco a piazzare la telecamera Impossibile Ragazzi, no, è impossibile Comunque Come vedete Il pc è acceso Per il momento è acceso Allora Perché Come vi dicevo Il sole più o meno c'è Però io non so Come andare a mettere la telecamera Questo è un grande problema Devo fare video di qualità Tipo del cappero E facciamo video di qualità del cappero In tutto ciò Mi serve una monetina Quindi Andiamo ad aprire Ok, questa scatola Dove io dentro Ci tengo Le monetine Eccola qua Qui ne ho una Bammete E signori Come vi stavo dicendo Ehm Allora Come tutti voi sapete Non è che ho stoppato La serie dei gratte e vinci Semplicemente Diciamo che Io spero che l'audio La telecamera Me lo stia registrando bene Ok Andiamo a grattare I nostri numeri vincenti Io intanto abbiamo 54 41 45 Sto registrando 43 Mettila là No 32 E 29 Allora Qui abbiamo un per 10 Un per 5 E un per 2 Ok Allora vi faccio vedere I numeri vincenti E come vi stavo dicendo Raga Incredibilmente I video dei gratte e vinci Ancora oggi mi fanno visual E ancora oggi Me li richiedete Ed effettivamente Raga Ehm Cioè Sarei Cioè è stupido Non portarli Se comunque a voi Se comunque a voi fa piacere Vederli E continuate ancora oggi A richiedermeli Con così tanta frequenza Oh raga Se vedo supporto sotto questo video Ve li porto Va bene Comprerò un'altra stecca Ehm Me la suddividerò Magari un video Ogni tanto Ehm E ve lo porto Dunque 35 Nel frattempo Nulla 48 Nulla Peccato Ok Perdonatemi Raga Per la ripresa Davvero Ma Come vi Dicevo Non ho Il tempo Per editare 45 Via Vincente Ragazzi Quanto meno Ci abbiamo ripreso Il prezzo Del biglietto Raga Uhuh Via 28 Questo qua è culo Ragazzi 14 Nulla 31 Nulla Comunque ve lo faccio vedere 45 45 Speriamo che non ci siano Solo 20 euro Ma tu mi Raga Ma tu mi 53 Nulla 23 Nulla 22 Nulla Vedete Porca vacca Raga Che figata Ma tu mi Cioè io Ora scopriamo che questo qua È il biglietto tipo da 11 No l'11 non ce l'abbiamo È il biglietto tipo da 100 milioni di euro Che io ho tenuto Nella scrivania Convinto fosse perdente Da Chissà quanto tempo L'aspetta Mettiamo a fuoco Sì dovrebbe essere a fuoco Esatto Andiamo a grattare qua Abbiamo il 47 Anche lui per dente Poi abbiamo il 12 Ovviamente il 12 Non c'è Rimangono le ultime due file E quindi semplicemente questo Raga Davvero Walter mi ha fatto venire Una voglia incredibile Di Di riportarvi Questi video qua Ragazzi Perché vedere Tutto questo supporto Voi non sapete Quanto mi casa Nel frattempo Tutti e tre per dente Nel senso Ve li faccio vedere Abbiamo il 34 Anche lui Per dente E poi abbiamo il 44 Per dente Per il momento Soltanto il 45 E' vincente Raga 39 39 E' perdente Perché noi qui abbiamo Il 29 Peccato Poi abbiamo il 55 Che è perdente Poi abbiamo il 13 Che è perdente 36 Che è perdente Ultimo numero 46 Perdente Ragazzi Io credo Ci siano 20 euro Il prezzo Del cartellino Ma davvero Raga Fatemi sapere Qui sotto Nei commenti E soprattutto Con un mi piace Magari 100 euro No 20 euro Niente Quanto vi ho detto Dai Comunque non è andata male Dai abbiamo ripreso I soldi del cartellino Col 45 E raga E incredibilmente Ok Rieccoci qua Bamme te Abbiamo grattato Un gratto e vinci Che avevo Da Da più di due mesi Quindi Ehm Io spero che questo video Comunque lo appreziate Spero che comunque Vi possa far piacere Questo ritorno Anzi Faccio pure la copertina Esatto Ok Ovviamente Prenderò lo screenshot Del video Per fare la copertina E nulla ragazzi Davvero Io spero tantissimo Che Supportiate Questo video Non spero Mi riformulo meglio Mi riformulo meglio Io Non spero Non spero Cazzo Non mi viene il termine Ecco Io vorrei Che supportaste Questo video Solo e soltanto Se volete Che riporti Come facevo prima Appunto Magari Un video a settimana Ok Non voglio portarlo Non voglio portarlo troppo Perché Per chi mi conosce Io mi stanco Molto in fretta Ma Se vi fa piacere Ragazzi Io non ho problemi Davvero Se siete disposti A supportare Quella serie A me conviene Soltanto Appunto Perché Questi mesi Il canale Sta continuando A fare visual Grazie a quei video Cioè Quei video Stanno ancora Continuando a fare visual Cioè Il primo video Dei Gratta e Vinci E' una roba Come oltre Due milioni Di visualizzazioni Una roba incredibile Anzi Aspettate Ve lo faccio vedere Allora Ci scriviamo Gratta E Vinci Pepo C'è C'è Nove c'è Ecco Guardate Vi faccio vedere Proprio In diretta Esatto Guardate qua Ma Tommy Cioè Se andiamo a vedere Proprio Il primo video Qua L'episodio Uno Guardate Quante visual Cioè Raga Quasi Tre milioni Raga Il primo video Tre milioni E più di centomila Mi piace Cioè E' il secondo video Cioè Guardate qua Cinquecentosettantottomila Raga Il secondo video Una roba Indecente Una roba Agghiacciante Quindi Se Vi farebbe piacere Se Vi farà Piacere Non vi farà Maronne I verbi Se vi farebbe piacere Vedere Un Una seconda stagione Dei video Dei gratte e vinci Ecco Una bella seconda stagione Dei video Dei gratte e vinci Supportate questo video A bestia E noi Ritorneremo Con i gratte e vinci Oggi signori Abbiamo Recuperato 20 euro Del gratte e vinci Che mio padre ha comprato Due mesi fa E nulla Vi voglio bene Ad un prossimo video E ringrazio come sempre Tutti coloro Che comunque Mi mandano Queste letterine Vi ricordo L'indirizzo Per spedirmi Quello che vi pare Pacchi Anche letterine private E poi mi leggo Per i fatti miei Trovate tutto In descrizione Appunto Via E quant'altro Detto ciò Grazie di cuore Vi voglio bene E ciao ciao A pièce Cioè Ricordate Supportate Con un bel mi piace E un bel commento Se volete Il ritorno Dei gratte e vinci Ciao Bye